Frazioni abbandonate a se stesse dopo otto anni dal sisma e ricostruzione pesante mai partita, fatti che dimostrano la completa incapacità e responsabilità dell'amministrazione comunale di centro-sinistra. È la denuncia del salviniano e candidato sindaco alle prossime elezioni Luigi Deramo, emblematica poi la situazione di Arischia, dove 43 famiglie hanno dovuto abbandonare il centro storico. Queste famiglie non sono state sufficientemente considerate, bisogna necessariamente procedere all'abbattimento degli edifici pericolanti e lo si sta facendo con delle procedure che presentano profili di legittimità e soprattutto ancora una volta scaricando la responsabilità sui presidenti di consorzio, perché dovrebbero essere costoro, utilizzando i fondi per la ricostruzione assegnati ai consorzi stessi, a dover procedere agli abbattimenti. Quindi ancora una volta questa amministrazione se ne lava le mani, non riesce a dare una tempistica certa per far rientrare queste 43 famiglie. Accanto a Deramo anche l'Aquila Futura con Antonio Pensa, che ha voluto sottolineare la situazione di Roio e dell'Università, anche quella una zona completamente abbandonata. E soprattutto anche per quanto riguarda la situazione dell'Università, quindi Roio, che nonostante ospiti una delle facoltà più prestigiose d'Italia, si ritrova ad essere in completo disagio e nonostante potrebbe aspirare ad avere una considerazione molto più importante. Presente in conferenza stampa anche Giancarlo Silveri, ex manager dell'ASD dell'Aquila, del Movimento Riscatto Popolare. Prove di dialogo con i salviniani in vista delle prossime amministrative? I due rispondono così. Noi siamo un'aggregazione civica che ha detto che è aperta a collaborare con tutti quelli che sono alternativi al PD. Specie soprattutto sui temi che riguardano la città e i cittadini. Questo è un tema che riguarda la città e i cittadini. Noi ci siamo pronti, assolutamente pronti, a far valere le ragioni di chi. E poi viene messo da una parte da una gestione assurda, vergognosa, incomprensibile. Io ho detto già che le primarie non sono d'accordo. Peraltro un'aggregazione civica che si mette a fare le primarie con i partiti non ha senso. Non c'è nessuna alleanza di natura politica. C'è la condivisione per trattare un argomento che riteniamo fondamentale e importante per la città dell'Aquila.